no mentre qui c'è un intervento falloso battuto velocemente dall'Arcibox che si lupa ma la manovra da sinistra Guarrasi ha toccato all'indietro verso Stillo che ha servito il compagno che si è tuffato sul pallone è arrivato il gol di Apriliano non ha potuto far nulla a scala una rasoiata perfetta che si è inzaccata e così l'1-0 al diciannovesimo minuto opportunità per Guccini è uno schema al limite dell'area di rigore il tiro poi Guarrasi rimane il cuore e il pallone lì piazzato con il destro che entra dietro ancora una volta Apriliano doppietta personale per lui è proprio lui il man of the match mancano solo 3 minuti e 2-1 a C-Box